Gentili organizzatori, cari amici, vi ringrazio per questo gradito invito in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua. L'Italia vanta una lunga tradizione storico-culturale nel settore dell'acqua, eppure oggi più che mai i cambiamenti climatici, la crescita demografica e la crescente domanda d'acqua potabile e di servizi igienico-sanitari rafforzano la necessità di considerare la tutela dell'acqua e degli ecosistemi che da essa dipendono come un obiettivo prioritario delle politiche nazionali e internazionali. L'Italia è in prima linea nell'affrontare questa sfida e ospita, sostenendole finanziariamente, qualificate organizzazioni internazionali operanti nel settore. Fra queste il World Water Assessment Program dell'UNESCO, che coordina l'autorevole edizione annuale del Rapporto Mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche. Il World Water Development Report 2022, Ground Water Making the Invisible Visible, che viene presentato oggi al Forum di Dakar, è incentrato sulle acque freatiche, risorsa vitale che fornisce quasi la metà di tutta l'acqua potabile in tutto il mondo. L'importanza di uno strumento come il Rapporto Annuale della UAP è oggi ancora più evidente. La disponibilità di dati scientifici affidabili è imprescindibile per mettere i decisori politici nella condizione di elaborare e implementare politiche e prassi virtuose. Il Forum, che si è aperto ieri, è il più importante evento globale sulle tematiche connesse alla gestione, l'utilizzo, la preservazione e la valorizzazione dell'acqua e offre un'occasione unica di dialogo e condivisione di idee per affrontare le sfide di rilievo internazionale legate all'acqua. Proprio in queste ore mi sto regando in missione a Dakar per una visita che, oltre al perseguimento della cooperazione bilaterale tra Italia e Senegal, intende dimostrare l'importanza che l'Italia attribuisce al Forum. Lo scorso anno l'Italia ha avuto l'importante responsabilità di detenere la presidenza del G20 e, in partenariato con il Regno Unito, quella della COP26. In questi contesti ci siamo adoperati per mantenere al centro dell'agenda dei leader l'adattamento ai cambiamenti climatici e la finanza per l'adattamento mirata al sostegno dei paesi più vulnerabili. È stata inoltre dedicata un'attenzione particolare alla protezione degli oceani e dei mari. La trasversalità del tema dell'acqua e la vastità delle questioni ad esse connesse richiedono un clima di fiducia e collaborazione, soprattutto per i paesi particolarmente esposti ai cambiamenti climatici e al loro impatto. Per questa ragione la cooperazione italiana allo sviluppo promuove una gestione inclusiva ed efficiente delle risorse idriche, secondo un approccio in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il numero 6, relativo al libero accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici di base. Vorrei ribadire l'importanza che attribuiamo al continente africano, dove finanziamo numerose iniziative in questo senso. Abbiamo recentemente approvato due progetti in Libia e in Somalia, finalizzati alla protezione del diritto all'acqua e al libero accesso alle risorse idriche e a fonti d'acqua potabile. Utilizziamo inoltre lo strumento del credito d'aiuto per sostenere numerosi progetti nel settore. Penso alla linea di credito attivata in Mozambico, destinata al programma di risanamento ambientale e drenaggio delle acque meteoriche di quartieri di Maputo e a quella attivata in Mali per la promozione dell'accesso dell'acqua potabile nella città di Bamako. Quest'anno, inoltre, abbiamo concluso con successo l'accordo con la Banca Mondiale per il progetto dell'impianto di dissalazione nella striscia di Gaza, in Palestina, al quale contribuiremo con 8 milioni di euro a dono. L'Italia è anche impegnata in progetti regionali nel Mediterraneo, come quello del Siam di Bari, che si è svolto in Egitto, Libano, Palestina e Tunisia, per il sostegno alla formazione dei giovani nella gestione sostenibile delle risorse idriche e marine. La cooperazione italiana attribuisce poi particolare attenzione al settore idrico e igienico-sanitario, il cosiddetto WASH, Water, Sanitation and Hygiene, inserendolo tra le principali componenti delle sue iniziative di aiuto umanitario. Tra le diverse iniziative finanziate lo scorso anno vorrei ricordare i nostri contributi di emergenza alle attività di Unicef in Libano e in Mozambico, volte a garantire l'accesso all'acqua pulita ai rifugiati siriani da una parte e agli sfollati e alle comunità ospitanti della provincia di Capo Delgado dall'altra. La cooperazione italiana finanzia anche le attività delle nostre organizzazioni e della società civile, che svolgono sempre un ruolo centrale nel settore igienico-sanitario, con un focus sulla riabilitazione e costruzione di opere idrauliche e sulla promozione di pratiche igienico-sanitarie, per esempio in Eritrea, Niger, Burkina Faso, Sud Sudan, Etiopia e Uganda. La recente attualità, dalla sfida pandemica alle crisi in diversi teatri, ci pone dinanzi a un imperativo. Abbiamo il dovere di mettere a sistema tutte le energie disponibili per realizzare un modello di sviluppo sostenibile che armonizzi le esigenze di sviluppo economico con quelle imprescindibili di tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità. Solo in tal modo potremo seriamente avviare una transizione ecologica che faccia dell'economia circolare di ridotte emissioni di carbonio e consumi d'acqua sostenibili le proprie priorità. Grazie molte per la vostra attenzione.